Continua senza tregua la corsa alla solidarietà per aiutare il piccolo Giovanni, il bimbo di Piazzola affetto da una grave malformazione alla gamba destra sin dalla nascita. Voi telespettatori avete risposto all'appello lanciato attraverso le nostre telecamere da mamma Erika per raccogliere fondi perché Joe si è sottoposto a un costosissimo intervento chirurgico in Florida che gli permetterà di camminare e correre come i suoi coetanei. Al nostro microfono Erika ha chiesto il vostro aiuto, pensate che solo l'altro giorno vi avevamo dato conto dei soldi raccolti in pochissimo tempo. Volevo aggiornarvi della situazione economica di Giovanni, nell'arco di un paio di giorni sono stati raccolti tra donazioni e biscotti circa 14 mila euro. Oggi siamo arrivati a 54 mila euro, ora dopo ora i vostri contributi crescono, obiettivo è raggiungere quota 400 mila euro. Domenica Giovanni e la sua famiglia saranno ospiti d'onore al mercante per assistere alla partita che i giallorossi disputeranno contro il Bessica. Due squadre avversarie unite per aiutare quello che è ormai diventato il nostro Joe. Non solo l'intero incasso della partita sarà devoluto al piccolo guerriero per sostenere l'intervento, ma anche il Bessica ha raccolto fondi per lui. Mamma Erika porterà anche dei biscotti, i famosi biscotti di Joe di cui vi abbiamo parlato nei nostri servizi, che saranno consegnati previo contributo sempre pro operazione. E i fedelissimi raccoglieranno altri fondi, insomma sarà un'azione combinata su più fronti, massiccia, forte. Protagonista Giovanni, che su iniziativa della nostra emittente darà il calcio d'inizio al match FC Bassano-Bessica. Che vinca il migliore e di certo la vostra solidarietà ha già stravinto una grande partita.